Se ieri Donald Trump aveva fatto capire di voler prendere tempo prima di ordinare la rappresaglia contro il regime di Damasco, sperando di far calare l'attenzione con la Russia, oggi Mosca ha scatenato la sua controffensiva diplomatica. Ha cominciato il presidente Putin. In un colloquio telefonico con il presidente francese Macron ha detto che ogni atto impulsivo e pericoloso in Siria potrebbe avere conseguenze imprevedibili. È stata poi la volta del capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, che prima ha minacciato un attacco militare in Siria provocherà una ondata di profughi in Europa, poi ha attaccato. Abbiamo prove inconfutabili che il presunto attacco chimico di sabato scorso a Duma è stata una messa in scena in cui sono coinvolti i servizi segreti occidentali. Quindi è toccato al Ministero della Difesa russo, attraverso il suo portavoce, affermare che ci sono prove di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione del presunto attacco chimico, in particolare di pressioni che Londra avrebbe esercitato sull'organizzazione dei caschi bianchi siriani. E non è finita perché Mosca ha annunciato di voler imporre restrizioni all'importazione di alcol, tabacco e prodotti agricoli dagli Stati Uniti e dai paesi alleati, di porre fine a ogni collaborazione con Washington nel nucleare e nel settore aerospaziale. Questo mentre a New York è tornata a riunirsi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta sempre della Russia. Alla riunione ha partecipato anche il segretario generale, Guterres, secondo il quale la tensione tra Russia e Stati Uniti potrebbe portare a un escalation militare totale, per questo la soluzione della crisi deve essere diplomatica. Intanto a Duma sono arrivati gli ispettori dell'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Da domani cominceranno a cercare le prove del presunto attacco chimico, per avere i risultati però serviranno diverse settimane e la situazione in Siria cambia molto rapidamente.